buon pomeriggio a tutti siamo sempre al roma i fidelity oggi è domenica 28 novembre e siamo in compagnia di alfredo scauzillo luxury group e del figliolo si è portato tuo figlio la nuova la nuova generazione sperando che come ho fatto io con mio papà anni fa sperando che riusciamo a seminare bene si si spiega un po che cos'è il luxury nel panorama dell'alta fedeltà certo italiana abbiamo una doppia veste la prima è importazione distribuzione quindi sia import che export perché abbiamo anche una sede negli emirati arabi e una sede in europa quindi importiamo e distribuiamo prodotti l'azienda abbiamo chiamata così luxury perché super super high end marchi molto molto prestigiosi l'altra veste è quella di ripenditore storico come ben sapete in quel di caserta con il nostro showroom dove trattiamo marchi sempre diciamo cerchiamo di fare una cernita abbastanza importante cercando di trattare marchi non molto commerciali sempre high end di diverse fasce di prezzo per cui abbiamo questa doppio questo doppio gioco questo doppio divertimento quindi da un lato rivenditori specializzati di brand importanti l'altro lato la veste di distribuzione con penso a dei marchi pazzeschi tipo estelon abbiamo estelon abbiamo cominciato con l'oro estelon proveniente dall'estonia diffusori acustici li conosci benissimo strepitosi abbiamo conosciuto e apprezzato la monaco è esatto prima di tutto e poi anche nelle varie edizioni del esatto l'abbiamo portata da te insieme a giampiero non molto tempo fa e poi c'è questa novità pazzesca il ritorno di raid il ritorno di rai esatto c'è stato l'azienda si è fatta avanti e siamo orgogliosi e contentissimo azienda pazzesca storica nel mondo della i end prodotti stupendi che si affiancano al marchio raido quindi abbiamo un catalogo abbastanza ampio perché da un lato c'è estelon con questo design pazzesco moderno con questo suono super trasparente quasi magico in 3d con questa nuova componentistica in diamante ceramica e quant'altro l'altro lato c'è raido che marchio un po secondo me un po più classico per audiofili dove ha questo brevetto loro pazzesco questo questo twitter a nastro di polo col medio di polo e con questa nuova gamma di prodotti che fantastica soprattutto la linea td è veramente pazzesca abbiamo anche una gamma bassa particolarmente curata un articolazione essenzionale sono dei prodotti di qualità sono dei prodotti esatto e sei responsabile anche di un'altra cosa abbiamo diversi prodotti abbiamo diversi prodotti sei responsabile del ritorno di cello di cello esatto la rinascita del marchio cello abbiamo acquisito insieme un partner ingegnere bravissimo abbiamo acquisito diciamo i diritti con un discreto magazzino di ricambi e abbiamo la possibilità di ovviamente di riassemblarli in maniera credo quasi limitata perché ovviamente non è che si possono fare chissà quanti pezzi quindi ritorno del magnifico cello legend del mitico mark levingson poi abbiamo in catalogo un altro mitico marchio purtroppo siamo ancora in attesa dei primi esemplari che è transcriptors marchio storico del classico giradischi di arancia meccanica stupendo azienda riaperta dal figlio di gammon quindi ha riaperto tutti i battenti e stiamo aspettando che arrivano i primi prodotti poi abbiamo il marchio abbiamo portato qui il marchio pilium audio che è greco dell'ingegnere costantinus costantinium pilium notevole bellissimo è una macchina da guerra abbiamo portato l'integrato leonidas che è un prodotto lui fa tutti i prodotti con componentistiche a norme militari a 2.4 kWh di trasformatori 200 watt peso di circa credo oltre 100 kg un integrato pazzesco all'estero sta spopolando in asia ha avuto un successo pazzesco suono bellissimo dinamico veloce caldo altra novità anche interessante siamo molto fieri e orgogliosi abbiamo preso l'importazione ufficiale del marchio del notissimo marchio di cavi siltec olandesi dicono che sono tra i migliori cavi al mondo azienda storica che esiste al fine degli anni settanta sono praticamente gioielli usano la tecnologia oro argento sono veramente magnifici abbiamo tutta la gamma nuova che abbiamo presentato quindi il triple crown stiamo utilizzando esatto nei nostri sistemi che ricordiamo avete sotto una sala molto bella sì al piano meno uno dedicata al raido sicuramente sì a roma abbiamo deciso di portare i due top di gamma di raido perché milano abbiamo fatto con estero abbiamo portato le due coppie di forza quindi l'anniversario che suonava con burmester e l'altra forza che andava nell'altra sala con cello adesso invece abbiamo deciso di portare per il pubblico romano i due nuovi top di gamma di raido quindi la td 3.8 diffusore molto importante l'ultimo progetto che hanno fatto del costo di circa 88 mila euro la coppia e l'attuale top di gamma è la td 4.8 costa circa 150 mila euro la coppia e quindi abbiamo portato questi due doppi impianti per per dimostrare al pubblico romano diciamo le potenzialità di di raido tutti dopo di gamma quindi tutte tutte prime donne a tuo figlio perché la tua generazione magari un po più legata alle cuffie l'iphone eccetera come 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 ti approcci a questa l'ascolto per esempio con diffusori te e rispetto ai tuoi cutane ti piace ma non troppo i diffusori piuttosto che le cuffie cosa preferisci allora le cuffie diciamo che le uso sempre magari nel nel quotidiano magari e poi quando vado da papa in negozio a caserta magari l'ascolto in un'altra cosa in un'altra realtà perché comunque la qualità è un'altra ascoltando dalle cuffie una cosa ascoltando da dei diffusori magari come estelon raido e un'altra posso immaginare la differenza c'è un po di differenza c'è un po di differenza beh beh sono contento stai crescendo bene quindi la nuova generazione speriamo quindi apprezzi sì tanto la fedeltà molto bene molto bene allora vedi che meraviglia è importante importante spottigione sì perché bisogna ricominciare a fare educazione perché è il rischio appunto del generazione che veramente si perda si diciamo si imbastardisce un pochettino purtroppo il nostro settore per cui portare io noto anche con dei clienti nostri clienti importanti che tendono diciamo a portarsi appresso i figli proprio per questo motivo cerca di educarli al mondo della musica perché pure noto pure con lui la stessa cosa lui ovviamente l'ascolto in puffia è una cosa poi quando mi viene a trovare quindi adesso anche qui e dice pa ma è diverso mi metti questo disco mi metti quest'altro disco e notano le differenze quindi secondo me è importante anche perché nel nostro range di prodotti abbiamo comunque del possiamo fare dei sistemi comunque interessantissimi senza senza acquistare questi classici radioloni wireless che fanno che altrettanto buoni però voglio di fare un piantino a un giovane ed è una cosa stupenda secondo me però ho noto un bel interesse devo dire la verità anche i suoi amici è la stessa cosa uguale già il passare dal fatto di sentire dentro la testa qualcosa al di là della timbre dalla dinamica della qualità bravo sentire la scena e ascoltare alcune frequenze con il corpo e non solo esatto ovviamente esatto è un altro effetto esatto come sta andando giù sta andando benissimo affluenza pazzesca l'ho detto ieri a stefano zaini gli ho fatto come sempre complimenti perché non abbiamo nemmeno avuto problemi di di file cose varie perché tutti un pubblico davvero educato rispettoso e la cosa bella è rivederli rincontrarci tutti insieme abbracciarsi pure un po un pochettino quindi voglio dire è una cosa davvero bella 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 pazzesca io sono contentissimo abbiamo avuto un bellissimo riscontro tutti contenti il suono è fantastico quindi voglio dire speriamo che di continuare così perché c'era proprio bisogno questa voglia di uscire di incontrarsi con gli amici di condividere la passione per la musica ascoltare varie cose la cosa più bella in assoluto secondo me e poi ricordiamo che comunque ci rivedremo tra molto tempo perché a marzo c'è milano tra poco la versione l'edizione primarile dell'ai fideli dove sarai ovviamente per certo con qualche altra qualche altra sorpresa benissimo grazie allora ragazzi e adesso torniamo in trincea perché esatto c'è ancora da fare ti aspettiamo va bene grazie a voi grazie a tutti ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti